La mia vita è stata fatta per la scuola Sì ragazzi Sì ragazzi Sì ragazzi Vai va bene Sì 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 Sì, stiamo facendo le riprese della squadra, c'è sì. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bellissimo, è tanto buona una chiamata, sì sì, bello. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.